Eccolo qui, il Multiplex, la struttura destinata, insieme al nuovo Palazzo di Giustizia, a cambiare l'identità del popoloso quartiere di Novoli, alla periferia nord di Firenze. 50.000 m2 di superficie, si tratta di un edificio polifunzionale che per ora comprende negozi di abbigliamento e di elettronica, una palestra con piscina, centro benessere e fitness e infine The Space, una multisala cinematografica, firmata Benetton e Berlusconi, che per il momento ospita 5 sale per complessivi 1.060 posti a sedere. Risolti alcuni problemi di ordine burocratico, le sale diventeranno poi 8. The Space consta anche di un sistema di biglietteria elettronica, proiezioni digitalizzate, bar. Il complesso è stato oggetto di un sopralluogo delle commissioni urbanistica e cultura di Palazzo Vecchio. Io penso che sia davvero un reale arricchimento per la città questa struttura, sono sicuro che diventerà un'occasione e un'opportunità importante per una parte del quartiere, visto che è un centro, diciamo così, polivalente. Un centro che dovrebbe contribuire alla riqualificazione di una zona con tanti problemi come Novoli. Sono convinto che i luoghi, se fatti vivere, quindi con attività culturale, con persone che vanno, che vivono effettivamente un posto, è la miglior risposta anche a problemi come giustamente i cittadini hanno segnalato in questa zona, che sono problemi importanti come per esempio quello della prostituzione. Al pian terreno aprirà anche un supermercato, mentre ci sono altri 14 negozi in attesa di trovare affettuari. E mentre The Space aprirà ufficialmente il 6 dicembre con un intervento di Leonardo Pieraccioni, ci si chiede anche se la zona sarà in grado di sopportare la prevedibile invasione di auto e non solo. Ci sarà un aumento di traffico, questo è un fatto, diciamo così, innegabile, però è anche vero che sono già state studiate delle opportune soluzioni. Penso in primis sotto la struttura c'è un parcheggio ad 800 posti per tutto quanto il complesso, quindi chi vorrà venire a fare la spesa o a comprare il televisore, andare in palestra o al cinema troverà un posto dove mettere la macchina. Accanto c'è il parcheggio di San Donato con oltre mille posti.